Maxi incendio in via Rochester, nel terreno che lambisce la piscina comunale dall'altro lato, a faccia su via Napoleone Colaianni, momenti di paura per gli abitanti del quartiere che hanno visto le fiamme miste a fumo liberarsi alte fino ad addirittura ad arrivare ad alcune macchine posteggiate al di là della ringhiera in via Rochester e nel parcheggio accanto alla fermata del bus. Impegnate nelle operazioni di spegnimento, due mezzi dei vigili del fuoco e uno delle pantere verdi della distanza presso la guardia forestale. Sono solo così riusciti a domare il vasto incendio. Pare che il terreno sia di proprietà privata. Il sindaco qualche mese addietro ha emesso un'ordinanza per il discerbamento di tutte le aree private ma non si sa se l'ordinanza è sanzionatoria perché per fortuna in questo caso non è accaduto nulla di grave ma date le condizioni del vento e il caldo equatoriale sarebbe potuto succedere anche l'irreparabile. Non si conoscono le ragioni del ruogo sul posto intervenuta anche una volante della polizia.